amiche amici di argomenti la voce dei cittadini ci troviamo sempre presso la struttura della sd sporting san cesareo inizialmente abbiamo visto il riscaldamento dei portieri della scuola calcio adesso vediamo gli esercizi della categoria 2007 2008 ed è importante vedere l'impegno di questi ragazzi la passione la dedizione e soprattutto vengono trasmessi rapporti a livello proprio umano l'importanza della socializzazione paolo è sempre un piacere vedere questi ragazzi impegnarsi e soprattutto come riesci a trasmettere questa tua passione nell'ambiente calcistico è una cosa bella perché faccio la cosa che mi piace che mi piace la mia passione lavoro e passione di unire le due cose lavoro e passione poi cerchiamo di dare qualcosa di importante ai ragazzi sia a livello tecnico ma soprattutto a livello umano che è la cosa più importante ok quindi insomma facciamo del nostro meglio stiamo lavorando benissimo qua allo sporting e speriamo sempre di fare meglio di continuare così e vediamo come questi ragazzi si allenano soprattutto si divertono perché a questa età questo deve essere il calcio deve essere passione etica sportiva allora mister questi ragazzi si applicano e questo è l'essenziale e questa è la dimostrazione di come la sd sporting san cesario sia una vera e propria famiglia ciao a tutti da argomenti la voce dei cittadini